Michele Pennetta, regista di Il mio corpo, tu racconti, o meglio lasci raccontare dalle immagini, due ragazzi molto diversi tra loro, cosa hanno però in comune? Allora, questi due destini hanno per me in comune lo stesso desiderio, che è quello di emancipazione in primis e la stessa sensazione di vivere un destino che è stato già scritto, ma non da loro. E' un po' come tanti ragazzi di oggi, giusto? Parecchi, infatti penso sia una storia che in realtà riflette, è molto più universale di quello che sembra, riflette tutta una, mi piace, queste stesse realtà che io racconto in realtà esistono ovunque, non soltanto nel sud, come lo chiamiamo, o nella Sicilia. In realtà sono situazioni che esistono in qualsiasi parte del mondo. Bello, prova anche il fatto che uno è un ragazzo siciliano che lavora con il padre in una discarica e l'altro è un ragazzo invece che arriva da molto lontano. Esatto, esatto. Immigrato, diciamo. Esatto, un immigrato e un autottono, come li chiamiamo, ma entrambi sono sullo stesso territorio e dunque questo concetto dell'altro abbiamo cercato di cancellarlo con questo film. Che cosa ti ha portato in Sicilia per la terza volta? Tu sei di Varese, no? Sei del nord. Sì, beh, io ho cominciato un lavoro in Sicilia quasi otto anni fa, col primo film. In realtà è stata in primis la curiosità, nel senso che avevo scoperto, il primo film parla di corse clandestine di cavalli, avevo scoperto questa realtà su un giornale e diciamo come sfida mi ero dato quella di andare in Sicilia per la prima volta e cercare di entrare in quel, di farmi accettare da quel contesto, da quelle persone che diciamo che sono, che per gli altri, appunto, gli stessi catanesi sono persone da non approcciare, perché, perché criminali, io ho trovato, io invece al contrario ho cercato di comprenderle, di capire perché questa attività delle corse clandestine è fondamentale per loro e alla fine tutti e tre i film sono accomunati da questo stesso sentimento, da persone che ha immargini che sono definite appunto criminali o clandestini, ma che in realtà non hanno altra scelta di fare quello che fanno per la semplice ragione di sopravvivenza. Per chiudere con ciò che abbiamo iniziato, Il mio corpo, ci sono tanti silenzi in questo film, a volte bastano le immagini, Michele? Completamente, sono un grande fautore della forza e della potenza delle immagini, infatti nei miei film i dialoghi sono molto pochi, spiegano poco, io preferisco sempre dare più spazio alla potenza espressiva delle immagini che alla spiegazione di qualcuno che ti può dire perché fa quello, perché fa quell'altro, dunque a noi di capire effettivamente e di interpretare quello che vediamo. Grazie mille, al prossimo allora, non sarà più in Sicilia, no? Il quarto, ce ne andiamo da qualche altra parte. Andiamo nei Balcani. Fantastico, grazie. Alla prossima, ciao.